Gosens-Inter. Ebbene sì, ragazzi, le ultime ore, gli ultimi giorni di questa sessione invernale di calciomercato rischiano di diventare molto caldi per la squadra campione d'Italia che, nelle ultimissime ore, è proprio una notizia freschissima, ha fatto tornare in auge il nome del potente esterno sinistro dell'Atalanta, Robin Gosens, che purtroppo non stiamo vedendo in campo ormai da diverso tempo a causa di un infortunio di cui parleremo all'interno di questo episodio e che sembra diventato improvvisamente il colpo numero uno che l'Inter e che Marotta vuole portare a Milano già negli ultimi giorni di questa sessione invernale di gennaio. Siamo qui quindi in questo episodio per raccontarvi la notizia di mercato e per provare a capire tutti insieme se il profilo di Gosens è effettivamente quello ideale per l'Inter di Simone Inzaghi. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, andiamo subito a inoltrarci nella notizia, prima però iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto così non vi perdete anche tutti i prossimi contenuti che sicuramente dedicheremo al calciomercato ma non solo, abbiamo in mente tante altre cose da proporvi in questi giorni. Dicevo, mi addentro subito nella notizia condividendovi lo schermo con l'articolo che trovate anche su PassioneInter.com, ovvero l'Inter ha deciso, è Gosens il post Perisic. Facciamo un piccolo recap di quello che è accaduto. Ieri c'è stato questo ormai famoso e attesissimo vertice in videoconferenza purtroppo, visto che Simone Inzaghi è positivo al Covid, infatti piccolo inciso, un grande augurio di pronta guarigione al mister. Questo vertice c'è stato quindi videoconferenza fra Inzaghi e la dirigenza in cui si è discusso sul come muoversi in questi ultimi sei giorni di calciomercato. Le piste di cui si è parlato sono fondamentalmente due. Da una parte l'attaccante low cost che andrà a coprire, diciamo, non a coprire delle lacune, però andrà a far dormire sonni tranquilli, diciamo così, a Simone Inzaghi in un reparto offensivo che ha delle criticità, la fragilità di Correa, il rischio di infortunio di Sanchez, soprattutto quando va in nazionale, l'età comunque di Dzeko. Quindi è stato, diciamo, stabilito che un quinto colpo potrebbe far comodo e diciamo che i due nomi di cui si parla sono da una parte Caicedo e dall'altra Salsedo. Molto probabilmente ne arriverà uno di questi due. Di questo però parleremo prossimamente, anzi ne abbiamo anche già parlato. Dirigiamoci sulla seconda pista di cui si è parlato, ovvero l'esterno sinistro. Vi abbiamo raccontato per tante settimane, tanti giorni, che Simone Inzaghi ha deciso definitivamente di considerare Di Marco un braccetto di difesa, quindi il vice bastoni. A fronte, a questo punto, della ormai imminente rescissione del contratto di Kolarov, si è ritenuto necessario puntare anche ad un esterno sinistro. Ma qui la linea della proprietà e della società è stata molto chiara. Non un colpo low cost, non un giocatore da prendere tanto per, come potrebbe essere in parte l'attaccante, ma un investimento, quindi un giocatore che si porta a casa già a gennaio, se ci si riesce, e che deve essere un investimento in vista del futuro, inteso come prossima stagione e anche prossimi anni. Da qui emerge il nome di Robin Gosens, che di fatto va a completare un pacchetto di esterni sinistri di cui si parlava da diverso tempo. Ne abbiamo parlato anche noi, i vari Kostic, Digne, Benzebaini, tutti questi profili che l'Inter ha seguito, anche Anghelinio, uno degli ultimi usciti dall'Ipsia, e che ha seguito in queste settimane. Il nome di Gosens, però, viene considerato quello ideale perché a livello di profilo, e fra poco lo vediamo, sembra essere effettivamente il migliore sulla piazza per sostituire Ivan Perisic. A livello di trattativa, per il momento, il gradimento da parte di Gosens al trasferimento a Milano è totale, immagino che capisco appunto la sua decisione, e si sta cercando quindi di lavorare sulla formula da proporre all'Atalanta. L'Inter vorrebbe lavorare su un prestito con riscatto intorno ai 25 milioni, l'Atalanta preferirebbe una cifra un pochino più alta, in ogni caso i rapporti fra Zhang e per Cassi sono ottimi, e quindi diciamo che almeno in questo senso non dovrebbero esserci grossi intoppi. Poi chiaramente deve esserci la disponibilità da parte dell'Inter magari a fare un passetto verso l'Atalanta, e da parte dell'Atalanta a fare un passetto verso l'Inter. Però comunque l'intenzione di lavorare su questa pista fino in fondo c'è. Dicevamo, questa era la notizia di mercato, andiamo a parlare proprio di Gosens in termini di profilo. È il giocatore ideale per sostituire Ivan Perisic? La risposta che mi do io è sì, e chiaramente poi vi chiederò anche un parere. Intanto vi faccio vedere, come sempre, la scheda Transfermarkt di Robin Gosens, classe 1994, quindi 27 anni. Valutazione di Transfermarkt 35 milioni, che è più o meno quella che vorrebbe fare l'Atalanta. Esterno sinistro, perfetto per il 3-5-2, lo interpreta nella maniera ideale, come abbiamo potuto vedere nel corso di questi anni, proprio agli ordini di Gasperini. È, secondo me, il giocatore ideale per diversi motivi. Il primo dei quali è, andando proprio a stringere molto dal punto di vista numerico, Perisic ha sempre garantito in carriera un ottimo numero di gol e di assist, e ha garantito anche un'interpretazione del ruolo di esterno sinistro totale, completa. È tanto un attaccante fortissimo quando deve puntare nell'uno contro uno, e deve fare la differenza in area di rigore, tanto un difensore molto attento quando deve ripiegare appunto in fase difensiva. E qui il completamento del lavoro che ha fatto l'anno scorso Antonio Conte ci ha portato un Perisic intorno al mese di gennaio scorso, che era diventato veramente una macchina difficile da pareggiare. E infatti, se vi ricordate anche nelle scorsi episodi, nelle varie dirette che abbiamo fatto, io in particolare vi ho sempre detto che la mia unica paura nel non rinnovare a Perisic non è tanto trovare un giocatore che riesca a fare il suo numero di gol o che riesca a avere la sua precisione difensiva, quanto il fatto di trovare un giocatore che sappia fare tutte queste cose insieme. C'è un solo profilo che condensi dentro di sé tutte queste caratteristiche. Ecco, fra i vari nomi che si sono fatti fino ad ora, credo di poter dire con una certa sicurezza che in termini di completezza, Gosens è sicuramente il giocatore che più si avvicina ad Ivan Perisic. Va detto che poi il discorso che poi può emergere, come ho già sentito dire da alcune parti, è ma perché bisogna andare a investire su Gosens quando puoi rinnovare Perisic? Qui i profili, cioè diciamo le situazioni sono due. Da una parte l'età, Gosens abbiamo detto prima, classe 1994, quindi 27 anni, Perisic ha 5 anni di più, non 2, non 3, 5, che non sono pochi. E poi anche dal punto di vista dell'ingaggio, ragazzi, Perisic al momento percepisce 5 milioni netti di ingaggio, che sono 9 abbondanti lordi, e secondo le ultime voci sembrava addirittura pretenderne uno in più. Facciamo finta che non pretenda un milione in più e rimanga sui 5. Siamo comunque 5 milioni netti per un giocatore che fra pochi giorni compirà 33 anni e al quale devi fare minimo un biennale o un triennale. Dall'altra parte un Gosens che ha 27 anni, attualmente all'Atalanta percepisce meno di un milione netto, perché l'ultima firma su un contratto l'ha fatto ormai diversi anni fa, quindi il valore di Gosens allora non era quello di oggi, meno di un milione netto e la richiesta, secondo quanto filtra in queste settimane, è di circa 3 barra 3 e mezzo, che peraltro è anche la proposta che gli ha fatto il Newcastle, che al momento è la vera grande rivale dell'Inter in questa trattativa. Quindi 5 anni di meno, un ingaggio che è un quinto di quello di Perisic e anche quello eventualmente richiesto è comunque inferiore, mi pare evidente il motivo per cui sia più produttivo da questo punto di vista investire su Gosens. Vi faccio vedere anche una cosa molto interessante, che attraverso il portale Huskord possiamo proporvi, ovvero un confronto molto rapido fra Gosens e Perisic. Ho preso come esempio la stagione scorsa per il semplice fatto che Gosens purtroppo, e fra poco ci torniamo, è infortunato ormai da fine settembre, quindi questa stagione ha messo insieme troppo pochi minuti. Perisic, vi dicevo anche prima, di fatto è diventato il Perisic nella sua versione attuale in quel di gennaio, quindi in realtà la stagione scorsa non l'ha fatta tutta su questi livelli, però comunque ha giocato anche prima, quindi secondo me è un paragone che si può fare. I numeri sono clamorosi dal punto di vista del tedesco, 11 gol contro 4, 6 assist contro 4, poi il parametro TAP è tiri a partita, 1.6 di media contro 1.1, percentuale di precisione passaggi 81.8 contro 76, due leerei più o meno siamo lì, uomo partita 3 a 2, il rating, cioè la valutazione media generale, 7.19 Gosens, 6.67 Perisic. e consideriamo che stiamo paragonando il tedesco a quello che secondo me attualmente è uno dei migliori esterni sinistri d'Europa, non lo stiamo paragonando con tutto il rispetto all'esterno di una squadra di Serie B, cioè Perisic è comunque un giocatore fortissimo, quindi che i numeri diano questo trend secondo me è significativo. e infatti prima vi dicevo, per esempio, tra le altre cose, che Perisic da sempre in carriera ha messo insieme un buon numero di gol e di assist, non essendo un attaccante, ebbene Gosens l'anno scorso in tutte le competizioni, quindi non gli 11.6 di questo dato che è solo in Serie A, in tutte le competizioni ha messo insieme 12 gol e 8 assist, e l'anno prima 10 gol e 8 assist. Stiamo parlando quasi di un attaccante aggiunto, fondamentalmente, che andrebbe ad aggiungersi a un Dumfries che dall'altra parte sta iniziando ad emergere, e anche lui in termini di gol e assist attualmente non è messo così male, se non sbaglio è a 3 gol e 5 assist, se non erro, considerate tutte le competizioni. Quindi si andrebbero a mettere insieme dei numeri molto molto interessanti. Finora abbiamo dipinto un profilo praticamente perfetto, voglio dedicare un piccolo spazio anche alle uniche due incognite, o gli unici due dubbi che si possono avere in relazione a Gosens. Il primo è il famoso e solito dubbio di cui si parla quando un giocatore dall'Atalanta di Gasperini va in un altro club. Abbiamo visto che tanti casi hanno mostrato delle fragilità nel passaggio dall'Atalanta, dalla macchina perfetta di Gasperini, a quella di un altro club. Non credo francamente che Gosens sia uno di questi, da un certo punto di vista perché comunque ha anche una struttura anche banalmente fisica che mi fa pensare che comunque riesca ad imporsi anche in altri club. E poi alla fine Gosens in questi anni è diventato per esempio anche il titolare nella Germania, all'europeo ha fatto comunque vedere tante belle cose. Non mi dà la sensazione di essere un giocatore che fuori dal contesto Atalanta rischi di perdersi, perlomeno a livello mentale, ma anche a livello tecnico. Quindi questo discorso lo metterei da parte. L'altra piccola incognita qual è? È quella dell'infortunio, che vi ho citato già due volte nel corso dell'episodio. Gosens si è procurato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro il 29 settembre. Quindi una lesione profonda e piuttosto seria. È rimasto fuori per circa due mesi, stava lavorando per rientrare intorno alle ultime partite prima di Natale, ha avuto una ricaduta, sempre allo stesso muscolo, un po' come ha fatto Correa, per farvi un esempio più di casa Inter, e attualmente è ancora fuori. Si prevede che possa rientrare fra la metà e la fine di febbraio. E questo è un bel problema, perché di fatto, essendo fuori da fine settembre, rimarrebbe fuori quasi per metà stagione, e quindi poi anche una volta rientrato, una volta guarito completamente, dovrebbe comunque avere, bisogna mettere in conto, che avrà bisogno di un periodo in cui dovrà tornare in forma, dovrà riprendere il ritmo partita. Chiaramente, dall'altra parte, stiamo parlando, come dicevo, di un giocatore su cui tu investi oggi, ma per i prossimi anni, non per questi sei mesi. Non è il cai sedere la situazione che ti viene a coprire sei mesi, e quindi se già i primi tre se li porta via per infortunio e recupero, sarebbe inutile. Quindi, secondo me, questa è una piccola incognita per quanto riguarda la volata finale per questa stagione. Ma non dimentichiamo che l'Inter eventualmente Gosens lo prende per questo finale di stagione e per diventare poi il sostituto di Perisic. Quindi questa è un'incognita, ma fino a un certo punto. Io mi auguro solo, da questo punto di vista, che possa rientrare e tornare ai suoi livelli di un tempo, perché comunque un infortunio dal punto di vista muscolare che ti colpisce due volte e con una gravità importante, a parte che non è un caso molto comune, quello che ha colpito Gosens, purtroppo, e potrebbe lasciare delle cicatrici, diciamo così. Però non credo francamente che... Cioè, se la società considera di puntare comunque su di lui, evidentemente lo ritiene un giocatore che potrà diventare e tornare pronto anche dopo l'infortunio. Questo, ragazzi, era un po' il quadro della situazione dal punto di vista del mercato e del profilo su Robin Gosens. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, fatemelo sapere con, nei commenti, l'emoji della bandiera tedesca, quella dell'esterno dell'Atalanta, che speriamo possa essere ex-Atalanta da qui a poco, così vi ho dato anche implicitamente la mia opinione sul suo eventuale acquisto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se secondo voi è il colpo ideale, se ci investireste una buona parte del tesoretto e se lo nominereste quindi il perfetto sostituto di Perisic, fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere poi il nostro progetto, potete farlo attraverso gli abbonamenti o su passioneintro.club o direttamente sul canale YouTube. Per il resto ci vediamo tutti i giorni in diretta dalle 19.30 su YouTube e su Twitch.